In partenza veloce Reva LB e Ronaldinho Tres che lottano per il comando con Ronaldinho che conquista la corda contro Reva LB a largo e rallo lungo la coda Ricky Gill. Numero 8, Robson B. Power, squalificato. Robson B. Power, intanto Reva LB si accoda in seconda posizione avanti a Ricky Gill mentre rimane all'esterno scoperto Rallo, quarta posizione per Roger Rior SM, avanti a Runara, poi Rainbow Horse a largo. Rallo risale. E la sua scia è presa da Roger Rior SM dopo 500 metri di gara, primo parziale in 29,3. Valli sul completamento della piegata, 600, percorsi in 45,7 sul mio cronometro. All'esterno si impegna sempre Rallo a lato di Ronaldinho Tres mentre in corda rimane in seconda posizione Reva LB, poi Ricky Gill, percorsi esterne c'è Roger Rior SM che si trascina Rainbow Horse. Tanto 59,8. Il passaggio agli 800 e il chilometro completato in 1,15 e mezzo. Retta delle scuderie con situazioni invariate e sempre in testa Ronaldinho Tres con Rallo che si impegna all'esterno, Reva LB in corda, poi Ricky Gill, a largo Roger Rior SM che si trascina Rainbow Horse, cavali a 400 dalla conclusione, parziale in 14,9. Si mantiene in vantaggio Ronaldinho Tres nei confronti di Reva LB all'esterno Rallo, sbaglia Roger Rior SM, cala Rainbow Horse, cerca di sprintare ora Ricky Gill che ha lo spazio libero per venire avanti. Più indietro Lunara, completamento delle piegate, ingresso in retta d'arrivo con Ronaldinho Tres in testa seguito da Reva LB. Ronaldinho si mantiene in vantaggio nel finale, Ronaldinho Tres in grado di vincere autorevolmente nei confronti di Ricky Gill al terzo e Rallo. 1,14,8. Il raguaglio conclusivo per Ronaldinho Tres, Maurizio Chedi a grossa quota, 19,31 al totalizzatore. Il retorno al successo per Ronaldinho Tres, Maurizio Chedi in salti, Cristian Rossi al training, scuderia 3SD. Il retorno al successo per Ronaldinho Tres, Maurizio Chedi in salti, 볼 al successo per чи screenshots per errore. Iraja Maria Zanone, lui treva楽 MOOS Grazie a Osti e guardare il sito per ricevere al nuestro sentitore eell macro punto deve princoggio. Ridicorio Chedi in salti, cosa è stata insolamente il ter karş.. Grazie a tutti.